La terapia per la rosacea papulo-pustolosa si differenzia anch'essa in relazione ai sintomi clinici e alla gravità della malattia. In questo video parleremo della terapia topica a base dei tre principali farmaci utilizzati per il trattamento di questa patologia, ovvero il metronidazolo, l'acido azelaico e l'ivermectina. Il metronidazolo è un farmaco antibiotico attivo nei confronti dei batteri anaerobici tra cui la specie del bacteroides, il clostridium e alcuni protozoi sensibili come la specie del tricomonas. Viene utilizzato per la terapia sistemica delle infezioni del tratto gastrointestinale oppure a livello topico per trattare le vaginiti sensibili al metronidazolo. Viene inoltre utilizzato per la terapia dell'eridicazione delle ricobacter pylori. Il metronidazolo per il trattamento della rosacea si utilizza a livello topico con formulazioni che possono essere creme, gel o lozioni ad una concentrazione che varia dallo 0,75 all'1%. Non ci sono particolari differenze in termini di efficacia clinica tra le varie preparazioni in gel, in crema o in lozione, però ci tengo a precisare che in questi ultimi anni le ricerche si stanno concentrando sullo sviluppo di formulazioni particolari basate su vettori lipidici nanostrutturati a base di metronidazolo che permettono di veicolare meglio il medicinale all'interno della pelle inibendone l'assorbimento sistemico e quindi limitando ulteriormente gli effetti collaterali sistemici che ci possono essere con la terapia. Sebbene questo medicinale sia utilizzato fin dagli anni 50 purtroppo i meccanismi farmacologici non sono ancora del tutto chiari. Per quanto riguarda la rosacea papulo-pustolosa possiamo dire che il metronidazolo esplica più un'attività antiossidante che antibiotica. L'attività antiossidante del metronidazolo si esplica in due modi diversi. Il primo è quello di inibire il rilascio di radicali liberi da parte dei neutrofili che sono delle cellule del sistema immunitario molto presenti a livello intrafollicolare nei pazienti affetti da rosacea papulo-pustolosa. La seconda via è quella di inibire direttamente l'attività dei radicali liberi quindi delle specie reattive dell'ossigeno all'interno del tessuto cutaneo. Il metronidazolo come efficacia clinica possiamo dire che riduce sia le papule e le pustole per una percentuale compresa dal 48 al 65 per cento quindi è un'attività molto buona per quanto riguarda il trattamento della rosacea papulo-pustolosa. In alcuni casi può essere utile anche per il trattamento delle ritrosi anche se i dati clinici sono ancora discordanti invece non ci sono stati risultati per quanto riguarda il trattamento delle telangiectasie. La terapia a base di metronidazolo per uso topico si basa sull'utilizzo di questo medicinale due volte al giorno e la terapia continua per 12 settimane. Generalmente i primi risultati si ottengono già entro le prime tre settimane di utilizzo da inizio terapia e diciamo l'attività farmacologica si stabilizza entro l'ottava settimana. Di norma il metronidazolo è ben tollerato per quanto riguarda le terapie topiche però alcuni pazienti possono accusare secchezza cutanea, bruciori, infiammazioni e prurito. In questi casi è essenziale confrontarsi con il proprio specialista per vedere se è necessario continuare la terapia o se appunto modificare il medicinale. In genere la terapia topica con il metronidazolo non è sempre una monoterapia ma di norma viene associato con dei farmaci sistemici come per esempio le tetracicline che vedremo nel prossimo video oppure in associazione con un altro medicinale per uso topico che è l'ivermectina. L'acido arzelaico è una sostanza prodotta da un lievito il malassesia furfur che è un microrganismo presente sulla pelle di ognuno di noi. Questa particolare sostanza è dotata di attività antibiotica poiché inibisce la sintesi proteica di microrganismi sia aerobi che anaerobi, svolge un ruolo antiossidante e anche un'attività antinfiammatoria poiché inibisce la sintesi della catelicidina e anche l'espressione genica della calicreina. Faccio una piccola parentesi l'acido arzelaico è dotato anche di una forte attività contro la 5 alfa reduttasi che è un enzima che trasforma il testosterone in diidrotestosterone. Il diidrotestosterone è imputato nella genesi dell'alopecia androgenica poiché atrofizza i bulbi peliferi, quindi l'acido arzelaico può rivelarsi utile anche per il trattamento di questa patologia. Questa particolare sostanza trova applicazione anche per il trattamento dell'acne vulgaris poiché è dotata di azione cheratolitica e riduce lo spessore dello strato corneo. Svolge poi un ruolo schiarente e può essere utile anche per il trattamento dei disordini da iperpigmentazione cutanea come il melasma. Per quanto riguarda la rosacea papulopustolosa l'applicazione topica di acido arzelaico al 15% si è rivelata efficace per limitare, per inibire le lesioni infiammatorie, le papule e le pustole di questa malattia. L'acido arzelaico per uso topico è efficace per ridurre il 78% delle pustole contro il 56% del metronidazolo. Inoltre è efficace nel ridurre anche l'eritema del 56% contro il 42% con l'utilizzo del metronidazolo. Purtroppo anche l'acido arzelaico non ha nessuna attività contro le telangiectasie. L'azione terapeutica dell'acido arzelaico continua a migliorare fino alla quindicesima settimana di utilizzo. Per questo motivo possiamo affermare con sufficiente sicurezza che questa molecola può rivelarsi più efficace del metronidazolo per il trattamento della rosacea. Generalmente la terapia a base di acido arzelaico prevede una massimo due applicazioni giornaliere e la durata della terapia è di almeno otto settimane. Purtroppo alcuni pazienti presentano un'ipersensibilità a questa sostanza che può scatenare delle reazioni infiammatorie molto gravi sulla pelle. In questi casi bisogna tempestivamente contattare il proprio specialista per valutare se sospendere il trattamento o se ridurne le applicazioni giornaliere. L'ivermectina è un lattone macrociclico prodotto dal batterio streptomyces ivermitillis ed è un medicinale che è stato introdotto nel 1981 come antielmitico per il trattamento della scabbia, dei pidocchi e di altre patologie parassitarie. Per uso topico l'ivermectina si è dimostrata efficace come antinfiammatorio poiché riduce l'espressione genica della calicreina e riduce la sintesi della catelicidina. Inoltre inibisce la liberazione di molte altre molecole proinfiammatorie tra cui l'interleukina 8, l'interleukina 6 e la proteina chemiotattica dei monociti. Quindi l'ivermectina ha sia un ruolo acaricida che un ruolo antinfiammatorio. Nella rosacea papulopostolosa queste proprietà sono molto importanti soprattutto se questa malattia è sostenuta dagli accari Demodex. In uno studio clinico l'ivermectina si è dimostrata molto più efficace del metronidazolo nel ridurre le lesioni infiammatorie in quanto le riduce di un 86% rispetto a circa il 73% ottenute con il metronidazolo. L'ivermectina ha dato inoltre il punteggio più alto di circa il 35% nei pazienti che hanno ottenuto una remissione completa della malattia rispetto a quella ottenuta con il metronidazolo di solo il 22%. L'ivermectina è risultata inoltre più efficace dell'acido azelaico per il trattamento delle lesioni infiammatorie della rosacea papulopostolosa in quanto permette una riduzione di circa il 73% contro il 58% ottenuta con l'utilizzo dell'acido azelaico. Ad oggi l'ivermectina è il farmaco che detiene il primato per quanto riguarda il periodo più lungo di remissione dalla malattia che è stato stimato di circa 9 mesi. La durata del trattamento a base di vermectina all'1% per uso topico è di circa 12-16 settimane. Di norma si applica una sola volta al giorno prima di andare a dormire. Voglio fare una precisazione. Generalmente quando la rosacea è sostenuta dagli acari demodex e si inizia un trattamento con l'ivermectina si può assistere ad un peggioramento anche notevole della malattia. Questo non è un dato negativo poiché naturalmente in questi casi la rosacea è sostenuta dagli acari demodex ed essendo l'ivermectina una caricida sta uccidendo, sta iniziando ad uccidere questo tipo di acaro. Gli acari demodex morendo liberano tutta una serie di fattori pro-infiammatori che scatenano risposte immunitarie sulla pelle e quindi provocano la comparsa di ulteriori pustole e papule. Questo evento di norma tende a risolversi nell'arco del primo mese e mezzo dove si assiste a dei periodi di guarigione seguiti da periodi di peggioramento poiché appunto le acari demodex muoiono progressivamente al contatto con il medicinale. Quindi non dovete spaventarvi se per il primo mese il trattamento a base di ivermectina può scatenarvi delle reazioni paradossali perché poi i miglioramenti saranno sempre più evidenti dopo il primo mese e mezzo di terapia. Di norma l'utilizzo dell'ivermectina non ha particolari, non causa particolari effetti collaterali a livello topico, ci possono essere delle manifestazioni di irritazioni o di secchezza cutanea ma comunque generalmente è un medicinale ben tollerato. Con questo video vi ho parlato dei trattamenti standard per la rosacea papulopustolosa a livello topico. Con il prossimo video completeremo la trattazione di altre sostanze che possono essere di aiuto per la rosacea papulopustolosa. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.